Quasi 500.000 euro di violazione al codice della strada. Questo è quanto ha accertato la Polizia Municipale di Domodossola nel 2017. Di questa somma, al momento, le casse comunali ne hanno incassati 225.000. Una voce consistente tra gli incassi del Comune Domese. Per fare un paragone, alcuni comuni confinanti con Domodossola incassano una somma che è inferiore ai 15.000 euro l'anno. I dati arrivano dal bilancio di fine anno redato dal Comandante della Polizia Domese, Marco Brondolo, che guida una decina di agenti, numero di molto inferiore a quanto prevede la pianta organica che stabilisce un tetto di 23 agenti. A questi 10 vanno giunti 6 ausiliari della sosta, ai quali compete il controllo degli stagli a pagamento. Tra gli accertamenti fatti risultano 753 punti decurtati da patenti di guidatori che hanno violato il codice della strada. Inoltre, i vigili domesi hanno sequestrato nel corso dell'anno ben 15 veicoli, ritirato 7 patenti, contestato il mancato uso delle cinture di sicurezza a 69 persone, 32 violazioni del codice per l'uso di cellulari alla guida e fermato 122 veicoli che non erano stati revisionati, più 23 che erano privi di assicurazione. Il sistema Street Control, l'apparecchiatura che fotografa i veicoli in transito, ha permesso di verificare 12.000 automezzi. Anche nell'azione di contrasto ai reati commessi sul territorio, la Polizia Municipale Domese ha fatto 39 comunicazioni nelle notizie di reato alla Procura della Repubblica. Tra le operazioni di rilievo nel 2017, l'indagine per la truffa commessa da cittadini extra-operi che percepivano illegalmente i contributi dell'Inps, l'identificazione dei vandali del parco di Via Trieste e di quelli dall'albero di Natale, ma anche la denuncia per la persona che danneggiava le tombe e il cimitero del capoluogo, più diverse denunce per furti nei supermercati e nei centri commerciali.